Michele Ruzier, l'NVP della finale, il triestino, il playmaker, l'anima di questa squadra. Quella di Michele Ruzier la conferma che tutti aspettavano in casa biancorossa. Il regista triestino resta nella squadra della sua città dopo averla guidata alla promozione in A1. Lo aveva promesso, faremo di tutto per riportare Trieste dove merita ed ha mantenuto la parola, chiudendo la stagione da MVP della finale playoff contro Cantù. Tutto questo dopo una stagione in cui, pur facendo fatica all'inizio, si è calato nella parte di play realizzatore, non più solo inventore di gioco ma anche finalizzatore come richiesto da coach Christian. Per lui oltre 13 punti di media e quasi 6 assist a partite in stagione con un significativo 37% da 3 punti. Non c'è niente di più autentico ed emozionante che vedere uno dei figli prediletti del basket triestino indossare nuovamente il biancorosso per aiutare la sua città a perseguire l'eccellenza cestistica, ha commentato il GM Michael Arceri. Michele, con il suo stile elegante e misurato, pieno di orgoglio e voglia di vincere, ha mostrato una brillantezza in campo che ci ha portato ai vertici del basket italiano. Inizia a completarsi così il mosaico della componente azzurra del roster, dopo l'ingaggio dell'ex nazionale Jeff Brooks alla centro di grande intelligenza e muscolarità. I cinque italiani dovrebbero essere completati da Capitane Angeli, Candussi e Bossi. Campo Grande dovrebbe andare altrove, anche se resiste l'ipotesi dell'ala azzurra Thomas Woldetensee, che ha appena rescisso il contratto con Varese. Il suo ingaggio, come sesto fra gli italiani, imporrebbe a coach Christian di ruotare uno di questi in tribuna, ma si tratterebbe di un problema di abbondanza che onestamente qualunque coach dia uno vorrebbe avere, anche se su di lui si sono gettate a capofitto molte società. Chiusa l'acquisizione degli italiani, si partirà con il mercato dei cinque stranieri nel solco dell'annunciato 5 più 5.